Benvenuti nello spazio Letti per voi, gestito da Telefono Donna, l'associazione che si occupa di donne maltrattate, vittime di violenza, in ogni caso bisognose di aiuto, e che qui a Cuneo si trova in via Carlo Emanuele al numero 34, telefono 017163 1515. La recensione che vorrei sottoporvi oggi è di un romanzo che ha avuto e che ancora, perché è stato pubblicato da poco, molto successo, La carrozza della Santa di Cristina Cassarscalia, edizione in Audi. Le antiche e lussuosissime carrozze del Senato sono quelle che a Catania danno l'avvio alla processione per Sant'Agata e quindi vengono chiamate le carrozze della Santa. Due ragazze straniere a Catania per il progetto Erasmus, dopo aver seguito la processione e fatto naturalmente fotografie, fino a che la statua della Santa non è rientrata in cattedrale, decidono di dare un'occhiata da vicino alle carrozze custodite nel Palazzo degli Elefanti. In una di queste troveranno un uomo sgozzato. Da qui l'avvio della carrozza della Santa, ultima fatica letteraria, di Cristina Cassarscalia. Naturalmente il caso viene affidato al vicequestore Vanina Guarrasi, affiancata dalla sua squadra e dal commissario in pensione Biagio Patanè, personaggio solo apparentemente secondario, ma con un ruolo notevole nell'inchiesta. Lettura vincente, romanzo capace di tenere il lettore incollato alla pagina, come i precedenti di Cristina Cassarscalia. Il libro è veramente consigliato e è stato presentato da Telefono Donna, l'associazione che si occupa di donne maltrattate, vittime di violenza bisognose di aiuto e che qui a Cuneo si trova in via Carlo Emanuele al numero 34, telefono 017163 1515. Le volontarie sono in sede il lunedì e il venerdì mattina, il martedì e il giovedì pomeriggio. A presto con Letti per voi.